è arrivato il normalizzatore Claudio Ranieri è il normalizzatore di tutta la situazione creata da Di Francesco che a sua volta era il normalizzatore di Spalletti che a sua volta era il normalizzatore di Rudi Garzia per non arrivare ad Andrea Zoli che era a sua volta il normalizzatore di Zeman per Ranieri pochi concetti ma semplici se abbiamo difficoltà nel palleggio palla lunga sulla punta e andiamo a lottare sulle seconde palle d'altronde Max Allegri, un certo Max Allegri ci ha vinto uno scodetto al Milan con Ibrahimovic e questo gioco e così bentornato Mr Ranieri prendere il fettina per la nostra Roma a raccoglie i gocci di un'annata scandalosa dice c'è traghetti piano piano quel che hai fatto non se lo scordamo non se lo scordamo prendere il fettina per la nostra Roma per il Pore Eusebio sarà fatta proprio l'ora dice c'è traghetti piano piano sei romano e noi ti rispettamo noi ti rispettamo dai fettina e dai Roma tutti a Ferrara forza Roma